Sette persone legate al clan camorristico de Luca Bossa sono state arrestate dagli uomini del comando provinciale Carabinieri di Napoli e della squadra mobile della questura della città. Sono indiziati del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza. I due provvedimenti riguardano rispettivamente un'estorsione commessa nell'ambito della gestione delle abitazioni di edilizia popolare e un tentativo di estorsione continuata nei confronti di un imprenditore. In particolare il primo decreto di fermo eseguito dalla squadra mobile di Napoli è stato emesso nei confronti di tre indagati. Umberto de Luca Bossa, attuale reggente dell'omonimo clan Roberto Boccardi e Mario Sorrentino che hanno richiesto a una donna la somma di 5.000 euro come prezzo per conservare il possesso della loggio popolare nel quartiere Ponticelli in cui viveva con il figlio minore. A seguito delle minacce ricevute non disponendo della somma di denaro la vittima è stata costretta ad allontanarsi per evitare ulteriori ritorsioni. Il secondo provvedimento eseguito dalla compagnia dei carabinieri di Torre del Greco e dalla tenenza di Cercola è stato emesso nei confronti di quattro indagati e Eugenio Bonito, Giuseppe de Luca Bossa, esponente dell'omonimo clan, Domenico Amitrano e Carmine Fico. Il fatto riguarda un tentativo di estorsione continuato commesso nei confronti di un imprenditore che dopo aver subito il 9 settembre gravi danni alla propria concessionaria di autovetture a causa dell'esplosione di un ordigno artigianale ha ricevuto una richiesta estorsiva di 50.000 euro.